Credo che sarai piuttosto rumoroso oggi Sono famoso per la mia ispirata retorica Ehi là, pubello! Sarebbe sufficiente anche solo un ciao, tigro Grazie Eccoli là! Cristo San Paolo! Faremo una gara per trovare una nuova coda per io Molto bene, ora non ci resta che decidere quale sarà il premio per... Come, prego? Hai starnutito? Ma niente affatto! La parola è decidere, non è ci! Ti sei preso un raffreddore? Mi sa che lo prendo anch'io Con rabbia Chiedo in prestito un po' di miele Solo un assaggio Un assaggino, per così dire Sciocco di un orsetto Somewhere only we know Grazie a tutti.